Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto Mashed firmato. Questi tappeti vengono annodati a Mashed, capitale della provincia del Corazan, una regione della Persia nord-orientale. I motivi rappresentano spesso medaglioni in tonalità blu-rosso scuro e blu. La lana usata è molto morbida. I tappeti Mashed ricordano spesso alcuni tappeti Keishan. Lavorazione, Noted by Hand, spessore circa 9 mm, pelo, lana, ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, Clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.